F come fettina, oh mamma mia una tristezza proprio boom no? La fettina per l'amor del cielo, braciola e deve essere bella, alta, grossa, la fate fare dal bicchiere benissimo oppure da una bistecchina disossata e poi andare a casa e farsi surriscaldare una padella proprio in maniera coraggiosa e poi mettercela dentro za da una parte e za da quell'altra e poi za ancora una volta e za ancora un'altra volta, il tutto deve durare 5-6 minuti, mi raccomando nell'ultimo minuto dell'ultimo za abbiate il coraggio di metterci una bella noce di burro sfrigolante con un bel gottino d'olio che farà sì che il burro non bruci e poi un mezzo limone e poi rigirate ancora rapidissimamente la braciola in modo che con tutte le sue parti belle abbrustolicchiate ceda colore a questa salsina che si andrà a comporre col burro l'olio e il limone e poi mangiatevela anche in solitudine o in due con un bel tocco di pane, una meraviglia la braciola, za za, fettina, vai!